Come voleva si dimostrare, la seduta di Consiglio Comunale a Pagani, convocata in prima e in seconda convocazione, è andata oggi deserta ed è stata riconvocata per domani pomeriggio alle ore 16. Presenti per la maggioranza o ex tale la Presidente del Consiglio Comunale Enza Fezza e la Consigliera Mariella Migucci, sempre che sia ancora maggioranza. Presenti ancora per minoranze i consiglieri Desiderio, Barile, Terracina, Palumbo, Cesarano, Sessa, Pietro e Salvatore Cascone, per cui è mancato il numero sufficiente di consiglieri comunali e la seduta è saltata ed è stata rinviata, come dicevamo, a domani. Polemiche pacate ma ferme e decise da parte delle opposizioni che esprimono disappunto sull'operato della maggioranza. Il nodo da sciogliere per la maggioranza è l'approvazione o meno del consuntivo sul quale sono sorti non pochi problemi, in quanto non c'è funzionario che abbia a stamattina la volontà di firmarlo per cui non si può proporlo in seduta di consiglio comunale per l'approvazione o meno. Sembrava però che stamattina fosse stato trovato il funzionario che aveva partecipato alla stesura in un recente passato del consuntivo e questo funzionario sembrava disponibile alla firma. Ma stando alle voci di dentro, alle voci di corridoio, sembra che la cosa sia stata bloccata dalle altre sfere che gestiscono la cosa pubblica a Pagani, per cui la situazione è sempre in stallo. Con il rischio però che ove mai mancasse l'approvazione in consiglio comunale del conto consuntivo, l'assemblea e la giunta sarebbero sciolte senza sé e senza ma e si crede anche che non si andrebbe neppure a votare il prossimo maggio. È una situazione ingarbugliata e non certamente edificante con una maggioranza frantumata in pochi mesi e con alcuni consiglieri comunali che si sono dichiarati indipendenti. Vedi Mariella Micucci, vedi Giosi Tortola, Gianluca D'Antuono e forse anche Pietro Sessa. Cosa succederà domani? Non si sa. Certo è che il progetto Gambino Sindaco per il momento è in stand by e non sembra ci sia una soluzione che soddisfi tutti al di là delle dimissioni del superconsulente prima del sindaco Gambino e poi del facente funzione Anna Rosa Sessa che nel frattempo ha convocato la giunta per la mattinata di domani. Cosa succederà? Sarà firmato il consuntivo da qualche funzionario cointerprete dello stesso? Beh bisogna aspettare, anzi bisognerà aspettare fino a domani e poi chi vivrà vedrà.